Il Comune dell'Aquila ha consegnato oggi alla ditta che gli eseguirà i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Giniano Torretta Sant'Elia per un importo di circa 4 milioni di euro. Dopo qualche intoppo, compresa la gara d'appalto che è stata rifatta per i nadempimenti contrattuali della ditta, è stata messa finalmente la prima pietra sulla realizzazione della scuola che accorperà diversi istituti. L'ultima azione dei lavori è prevista per il 18 febbraio del 2024, indicativamente. La ditta che si occuperà dei lavori è la SV Edil, che ha sede anche all'Aquila. Se tutto filerà liscio, come tutti sperano, questa sarebbe la terza scuola ad essere riconsegnata alla collettività, dopo Maria Leventre e Arischia. Il progetto è quello che venne fuori dal concorso di progettazione internazionale del 2019. Ovviamente per accedere alla scuola non sarà usata la viabilità interna di Sant'Elia, l'unica possibile oggi, ma sarà costruita una nuova strada. Si andrà a gara breve che dalla rotonda di Giniano scenderà direttamente nella zona della scuola, una scuola che ospiterà un po' meno di 400 bambini, 90 saranno quelli dell'infanzia. È un intervento importante, 4 milioni e 100, circa 400 ragazzi. È un polo strategico per la zona est della città. È uno dei sei interventi su cui già i lavori sono avviati o sono in fase di avvio o di realizzazione. In alcuni casi anche la prossima settimana faremo un'altra bossa della prima pietra. Permangono delle difficoltà su ulteriori cinque edifici che sono in programmazione. Paganica, Sassa, Pianola, Giovanni XXIII e non ricordo l'altra. Comunque sono cinque interventi che sono stati oggetto di un confronto che abbiamo avuto lunedì con il capo di gabinetto del ministro Bianchi, il consigliere Luigi Fiorentino. Abbiamo chiesto rapidità, risposte certe. Lunedì 25 torneremo di nuovo dal consigliere Fiorentino per un confronto anche con la struttura di missione che poi è il luogo dove queste cose dovrebbero trovare una agevolazione. Forse due di queste cinque scuole le riusciremo a portare nella prossima seduta del CIPES. Insomma stiamo lavorando, non abbiamo mai dimenticato che l'edizia scolastica è una priorità di questa città.